Questa è la formazione iniziale del West Ham. Affrontano la partita con un 4-5-1 votato comunque all'attacco. Questo è Anfield, così recita la targa che accoglie l'ingresso in campo dei giocatori. Un avvertimento per gli avversari, una spinta in più per i padroni di casa. Tanti ricordi gloriosi, anche 5 coppe campioni per questo club. Uno stadio magico, meraviglioso, capace di trasmettere emozioni forti come pochi altri al mondo. Punta l'area, è riuscito a interrompere la trama con un buon intervento.